buonasera a tutti siamo a villa dose a casa di stefano da stefano abbiamo fatto un intervento super bonus che prevedeva come intervento trainante la sostituzione della caldaia con un sistema completamente elettrico una pompa di calore della daikin abbiamo installato 8 kilowatt di impianto fotovoltaico ottimizzato huawei abbiamo poi integrato tale impianto con 30 kilowatt di batterie della huawei infine abbiamo installato una colonina dell'auto elettrica della tesla caro stefano io ricordo che ci siamo visti un po di tempo fa mamma mia quanto eri preoccupato di questo super bonus col senno di poi erano preoccupazioni lecite o non lecite allora adesso adesso insomma sono contento prima ero molto 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 titubante perché insomma siamo ragualiati per circa un anno quasi un anno e sono adesso devo dire che sono contento ma bensì di più insomma perché il 110 è andato a buon fine e l'impianto ha un funzionamento si produce fino a 35 kilowatt al giorno e per otto nove mesi insomma sono quasi dipendente ecco indipendente dall'energia l'ultimo step ora è magari sostituire il fornello a gas con uno elettrico per poter poi così buttare via anche le bollette del gas che ogni tanto ancora arrivano sarà il regalo che ci faremo per natale insomma è a breve a breve durante questo periodo di preoccupazioni eccetera le tue dubbi le tue domande hanno avuto risposta in bioenergia sì 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 hanno avuto risposta con roberto e anche con le ragazze dell'ufficio non ho avuto per niente alcun problema insomma ecco non ho avuto problemi perfetto gli installatori come erano ti sono piaciuti hanno lavorato bene sì sì installatori sono venuti precisi puntuali puliti e niente da dire insomma perfetto caro stefano io sono contento che le tue preoccupazioni siano svanite nel nulla mi fa piacere vedere questo tuo sorriso che all'inizio mi ricordo non c'era e bene sai che per qualsiasi motivo sai dove trovarci mille grazie ancora a te a bioenergia e a tutti il vostro staff insomma grazie di cuore ciao 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 ciao